amici di faner appassionati di lega calcio a 8 benvenuti all'atletico 2000 serie a questa sera si affrontano gruppo project team immobiliare ns calcio a 8 dopo lo stesso numero 5 controllo in aria di vigore altro prossimo mezzo deviazione verciaro e quindi campani sull'esterno della rete prima opportunità della partita in favore del gruppo project in dopo 12 minuti va a battere negro basso questa volta impatta bene il pallone campani finisce fuori time out chiamato dal ns che rischia molto in controllo celiani chi nagli si aggancia come può l'avversario il tiro di celiani deviazione del portiere in angolo che la vede sbucare all'ultimo valentini va col destro deviazione paula che rimane in aria il tiro di sinistro fuori terza occasione molto pericolosa per il gruppo project in immobiliare stupendo di valentini che mette in mezzo colpo di testa un miracolo di merciaro che nega il gol al gruppo project team si è acceso alla partita mi però esce parla al piede trevisani va col sinistro trevisani e questa è una super risposta da parte del portiere vassalli in angolo nuovamente torri molto aggressivo il 1 32 nonostante il giallo di gian domenico la palla arriva poi sul sinistro e sul gol del 1 a 0 del gruppo project team immobiliare che va in vantaggio con tiziano negro 1 a 0 gran botta dalla distanza decisiva la pressione da parte di di gian domenico e di torri ma realizza il numero 3 è 1 a 0 di gian domenico davanti al portiere di gian domenico il gol del 2 a 0 clamoroso il gruppo project team va sul 2 a 0 quando sembrava dover subire il gol del pari raddoppia con di gian domenico in contropiede palmieri ci riprova ancora una volta non c'è nessuno del nes in area a deviare in maniera decisiva è un po il trend della partita campagna e coco alla battuta ma campani con sinistra il miracolo ancora un miracolo poi sempre campani la palla che rimane lì il nes poi esce con ciliani cerca ripartezza coco si mette il piede e finisce qui il match il gruppo project team immobiliare vince 2 a 0 sul nes calciotto si guadagna i tre punti ha giocato di rimessa nella ripresa buon primo tempo 2 a 0 il finale